In via Francesco De Pineto 55 a Capodichino nasce TAIL, la nuova società di produzione audiovisiva inaugurata questa mattina con il sindaco De Magistris e l'assessore ai giovani Alessandra Clemente e la quinta delle dieci attività d'impresa finanziate dal comune nelle diverse municipalità per offrire ai giovani napoletani una possibilità concreta di occupazione. Grazie al progetto Sviluppo Napoli ho avuto un finanziamento concreto ed oggi siamo qui per sentire, vedere e toccare la loro sede, il loro progetto e il modo in cui attraverso il proprio sviluppo dà una nuovita uno sviluppo del territorio. Siamo a Secondigliano, una terra che è raccontata attraverso Gomorra per esempio, attraverso le ferite che dà il territorio, vogliamo scrivere una storia diversa, una storia dove le istituzioni in primo luogo, il comune insieme alle forze dell'ordine, insieme alle autorità sostengono i giovani soprattutto quando vogliono fare impresa sana e legata al territorio. Un altro sogno che si realizza, il nuovo centro di produzione multimediale nasce dalla volontà e dalla determinazione di due giovani napoletani che hanno scelto di investire nella città in cui sono nati il proprio talento e di contribuire allo sviluppo economico del territorio. Partendo da quest'idea innovativa del rotoscopio e dell'immagine 3D abbiamo deciso di creare questa piccola società per dare spazio per realizzare poi praticamente quella che era solo la nostra idea, inoltre poi per aprirci a tutte le varie figure creative, soprattutto giovanili che ci sono sul territorio, che sono tantissime e sono tante volte un po' bistrattate. L'attività inaugurata alla presenza del questore e di rappresentanti delle forze dell'ordine aderisce come tutte quelle della misura sviluppo Napoli al consumo critico e all'associazione anti-racket e anti-usura italiana. Qui in un'altra municipalità, in una zona crocevia tra tanti quartieri, si punta sull'audiovisivo, sul cinema, TAIL si chiama questa iniziativa, importante e ancora una volta Napoli che punta sulla cultura, sulla creatività, sui giovani e sull'impegno di chi decide di restare in una città difficile ma tanto affascinante.